Entra, esce, ma non è... Mi dia due ana, per favore. Come? Mi dia due ana, per favore. No, sia chiaro perché non l'ho capito. Dica cosa vuoi. Due analcolici, vieni giù dalla pianta. Ah, analcolici, due analcolici. Lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so. Due analcolici, ma c'era. Senta, per favore, la toi lei dov'è? Una toi? Una toi. Toi, toi. Sì, la toi, toi lei, toi. Quasi, là in fondo, vedi? Trova il biliardo, sempre dritto. Sulla destra, a sinistra, trova toi. Sì, sì, va bene, ho capito. Aspettami che torno subito. Vado a lavarmi le mani. Va bene. Ecco, se le lavi nella... Non esca, non sbordi. E la madonna, che maialone, che... Fa cos'è che a casa? Che vergogna. Certo che se va via di fagioli, il suo fidanzato fa lo sbarco in Normandia. Sembra un bell'uomo. Peccato questo piccolo di fetta. Due anala, pronti? Ma la signorina che c'era qua, dove è andata? È andata fuori a prendere una boccata d'aria. Ma sì? Ma scusami, dove stai andata? Cosa è successo? Il vergogno! È andata fuori a prendere una boccata d'aria.